Ci sarà anche Valerio Martorana tra i candidati alle prossime elezioni nazionali del 4 marzo prossimo. Il giornalista mazzarinese rappresenterà il Partito Repubblicano Italiano al Collegio Senatoriale numero 5, che comprende le province di Caltanissetta, Enna e parte dei comuni di Messina. Sociologo nonché direttore di alcuni centri per minori stranieri non accompagnati in Sicilia, Martorana punta a riscrivere e cambiare la storia del nostro territorio, come spiega ai nostri microfoni. Data la mia storia bisogna impegnarsi nel sociale, bisogna metterci le mani pulite, non sporcarsi le mani e servire il territorio. In questo paese abbiamo smesso di sognare, allora dobbiamo avere la capacità di ritornare nuovamente a sognare, di costruire insieme una speranza e il mio appello è agli uomini e alle donne di buona volontà. C'è la possibilità davvero di cambiare pagina, di scrivere una bella pagina su questi territori, però questa pagina la possiamo scrivere con il contributo di ciascuno di voi, partendo dal nostro modo di essere, buoni cristiani e onesti cittadini, non dimenticando la mia estrazione che è un'estrazione salesiana. Io non voglio promettere, Mari e Mondi, non fa parte della storia del Partito Repubblicano italiano. Nei momenti di crisi, nella storia repubblicana, il Partito Repubblicano è stato un partito serio, credibile e attendibile. Ha cercato di dare delle soluzioni reali. E la mia persona a servizio del territorio, oggi la politica si è distaccata dal territorio, allora la prima cosa necessaria da fare è ascoltare il territorio, ricostruire un contatto con il territorio, questo è quello che mi prometto di fare. Tutto dipende dalla politica, allora non possiamo solo lamentarci, dobbiamo metterci in prima linea, dobbiamo impegnarci, dobbiamo avere il coraggio di scommetterci. Grazie a tutti.